Difesa 3 o difesa 4 è questo il dilemma. Massimo Rastelli anche questa settimana dovrà far lavorare la testa per cercare di organizzare al meglio la formazione da mettere in campo a partire dalla difesa, in cui mancherà per squalifica Simone Uriletto. Di fatto l'unico braccetto di sinistra utilizzabile nello schieramento a tre. Complicato dunque che si possa inserire dal primo minuto Sottini, unico effettivamente di ruolo, ma che è anche l'unico fino ad ora non aver mai visto praticamente il campo. Quanto meno complicato che il tecnico dell'Avellino possa inserirlo dal primo minuto contro il Foggia in una partita del genere. Più probabile dunque che si viri verso una difesa 4, meno cervellotica e più rodata. A centrocampo il ritorno di Casarini dall'inizio dovrebbe essere scontato, così come la coppia Russo-Marconi in avanti. Out ancora dall'olio e aia, se Rastelli nell'ultima conferenza stampa era stato piuttosto ottimista sul loro ritorno in gruppo, la realtà gli ha dato torto. Ancora ferma e boxa entrambi, l'uno per il problema al tallone e l'altro per il guaio a ginocchio. Tempi di recupero incerti per due calciatori, che nel loro reparti di competenza avrebbero davvero potuto togliere le castagne dal fuoco a Rastelli in molte situazioni.